In Sardegna la norma che riforma gli enti locali è ferma in Commissione Riforme e Autonomia dopo l'impasse registrato nel suo approdo in Aula, con la conseguenza che le province sono in una situazione di stallo, con cinque enti intermedi commissariati e gli altri tre, Nuoro, Sassari e Oristano, in attesa di novità e di conoscere il proprio destino. A livello nazionale, invece, il Governo Letta, dopo la bocciatura della Corte Costituzionale, ha intrapreso decisamente la via del superamento degli enti intermedi. Il Consiglio dei Ministri stamattina ha varato un disegno di legge che si occupa di riorganizzare l'assetto territoriale dello Stato, costituito da città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni. Una profonda revisione che svuota in parte i poteri delle province in vista dell'abolizione della Carta Costituzionale. Il disegno di legge, varato dal Governo stamattina, ora dovrà passare all'esame della conferenza unificata per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il suo valor definitivo. Il disegno di legge prevede due livelli territoriali principali, costituiti dalle regioni e dai comuni, con in mezzo l'organizzazione delle aree vaste con le città metropolitane. Una riforma che è attesa da 30 anni. Il Ministro per gli Affari Regionali, Graziano Del Rio, ha chiarito le intenzioni dell'esecutivo. Nelle città metropolitane vive quasi un terzo della popolazione italiana. La riforma metropolitana può dare competitività al Paese. Le province le città metropolitane con la riforma diventano enti di aria vasta, di secondo livello. Si azzera tutta una classe intermedia politica, ma non crediamo si azzeri così la democrazia, ha sottolineato Del Rio, che ha anche annunciato che il Governo attiverà un programma per individuare 3.000 enti intermedi che andranno soppresi o ridotti. Il risparmio immediato, derivante dalla cancellazione delle province, è stimato dal Governo in un miliardo di euro.